Ciao a tutti, eccoci qua di nuovo su Project Zomboid per il secondo episodio Stiamo ancora nella casina brutta brutta Che in realtà non è manco tanto brutta E' affamati, quindi io direi qual è il miglior modo per inizia un video se non mangiare una cipolla, mezza cipolla Stosa proprio E' ancora angry, ma per favore Mangiamo una cipolla intera Eh, non è bastato Ma voi che mangiate le cipolle, no? Come fate a sopravvivere così? Quindi mangiamo pure un po' di fromage Un quarto, no? Un altro quarto Ok Ora che l'intro mangereccia è stata fatta Vediamo un po' di... Continua a lottare robacce E direi di poter iniziare a cercare un semi buonissimi Direi che possiamo iniziare a cercare un posticino, una casetta Dove resta? Fermi, perché io questi posti vedo sempre pieni di babbalè, no? Infatti, sopra, sotto Se questi mi hanno visto, ma che ciò cospicuo, guarda Cioè Io non posso manco decidere più Oh, madonna E' pieno di zombie, vedi qua Mamma mia, ma che... Ma che cosa è successo in questo loco? Oh mio dio Knock, knock Vediamo un po' di... Entra qua, va Comunque Vorrei trovare Un bel posticino Dove ci possiamo stare Stabili Magari baricarci Bene bene Che non sia sto posto Perché Qua ogni angolino è pieno di schifi E non mi sta mica bene a me Perché Cioè Guardate qua Già devo cambiare la benda Perché è sporca E non so manco come si chiudono i pannelli Quindi continuo a premere Perché So così forte a sto videogame Che Che Come di Mi scordo come funziona Certe volte, no? Intanto vediamo sta casina Che ci offre Quali delizie Ci hanno lasciato I precedenti Altri semi I semi sono sempre buoni Perché si può anche Zappà su questo Uh patatine buone Zappà su questo gioco E quindi Si mette un po' Zappà la terra No Un po' di zappamenti Mmm Che ci abbiamo? Sì Gelato buono Che Chi non vuole il gelato Il tofu non lo voglio Non mi piace Bagno Direi di riempire la bottiglietta d'acqua Un ripostiglino Do Ci stava qualcosa? No Ok Sta casa è buia Non trovo l'interruttore Ah no Ma è ancora più buia E Che ho visto? Pareva di aver visto uno zombie Vi devo controllare di nuovo La registrazione Perché mi ha fatto abbastanza paura Vediamo sopra Nelle camerette Se ci sta qualcosina No Comunque Mo Ci allontaniamo bene bene da Da sta zona molto trafficata Perché Qual era la finestra Che ho aperto? Beh Perché Io non so voi Ma a me di vivere in mezzo agli zombie Proprio non mi va Poi magari Per carità Ci sta chi fa delle scelte Magari chi vuole un po' di compagnia E decide di stare con loro Magari Sono pure simpatici Ma Eccoli infatti Madonna Simpatici Il cavolo Stanno sempre addosso Stanno Abbiamo i I zombie Amici Super La porta qua chiusa Premiamo sta finestra Intanto È notte Quindi Tra poco Al signorino Dovrebbe venire sonno Perché Cioè Non notte Sono le 11 Sì Dovrebbe venire sonno Al signorino Magari ci viene sonno E Ah Bella luce Bella luce Comunque Continua a raccattare Robe Perché Qual è lo spirito Non survival Se non Raccattare più cose possibili Fino a che non ti si riempie l'inventario E poi non sai più Quello che ci devi fa E la metà delle robe Poi le finisci Per buttare per terra Perché Ti accorgi Che non ti servono a niente E io Siccome Sono uno che gioca Full spirito survival Oh Le fragole Mi piacciono Le fragole Uno che gioca Full spirito survival Continua a raccattare Tutto quanto Buona l'arancia E poi Vado a finire Col buttatutto Perché Così si gioca Così gioco io Prendiamo un po' Un bagnetto Vedi Vedi però Quanto si sono impegnati A fare case Guarda delle belle case Che ci stanno E' buchissimo Vorrei dormire un po' Però Potrei dormire Qua su sta sedia Perché è buio E non vedo Sleep Sette ore Intanto il tempo Va più veloce Ecco qua Sette e venti Freschi freschi Di mattinata Buongiorno a tutti E tutti i zombie Perché Pure i zombie A notte dormono E infatti Eccolo Questo sarà Rannicchiato là Fa un pisolino Perché dice Ma M'hanno lasciato Da solo a casa Almeno fammi dormire Direi di Ribendare Che diavolerio è Disinfettiamo E bendiamo E vorrei vedere Perché Se non ci state attenti A ste Piccolezze A sti graffi No Dopo un po' Succede quello che succede In tutti i survival Con gli zombie Infatti Già sto a sentire Dolore Scavalchiamo qua Chiudi No 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 Ok Quelli li dovrei Riuscire a seminare E andiamo un po' A cercare Un bel posticino Isolato No Beh non male Perché Qua sono tutte case Diciamo È un Quartiere Ricco No Doci La gente ricca Tutti villoni Quindi Un sacco di gente C'è morta C'è diventata zombie E Se rimani qua Alla fine Quella Andiamo a sta casina Che magari Potrebbe essere Un Ottimo esempio Di Un piccolo Localino No Dovono si mette Sta qua Vediamo se riusciamo a aprire La finestra Almeno Dai Dai No No Signorina La prego Mi si è rotto il coltello Mo 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 Ti pisto Ti pisto come all'uva No Come si dice Da certe parti La pistata come all'uva Intanto non mi ha risgraffiato Quindi Ok Mi sono scordato I tratti che ho messo Perché vedo Ah ok Ecco perché C'ha sempre fame Sto babbaleo Dai Apri 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 O l'uomo pioggia Non riesce a aprire Una finestra È incredibile Sta cosa Ma vedi Ma sentito Ma sentito Una volta E ci dice una cosa L'uomo pioggia Lui subito No no Per favore Perché Puoi bere La candeggina In project Zomboid Ovviamente Non è raccomandabile Però Malestremi Videogame Questi non ci stavano Prima Questi non c'erano Vedi un po' E un po' Fragole L'anguria E io direi di Farvi almeno Vedere Come Come si cucina In questo Giochino carino Vediamo Ci sta il forno L'ho presa La carne Perché io Sono furbone Non prendo la carne Da wash Si mette La carne Nel Forno Si clicca Turn on E si aspetta E si aspetta Intanto Appare Dopo un po' Appare Una barretta Che ci dice Quanto sta cuocendo Finita la barretta Diventa Cooked Mountain Chop Che dovrebbe essere Carne di Pecora Credo Ecco Ecco la barretta Finita quella barretta Intanto si può fare altro Non bisogna Stare a guardarlo Per forza Non può fare altro Lo vedete qua Ci stanno i semi di pomodori I pomodori non sono buoni Lo vedete qua Un altro Un altro zainetto Quelle pilloline Per dormire Ma io non sono Uno che si fa di medicina Sono uno Al naturale No Uno che Lascia la natura Fare il suo corso Mutande Mutande Queste sono le mutande Che vanno stirate Quindi è meglio Non prendere Perché se no Poi ci Ci tocca un dramma In più Di stirare Mutande E intanto qua Qua c'è la carne La carne che fa molto bene Mi raccomando Mangiate tanta carne E tante verdure Questi In ogni episodio Ci sarà Un insegnamento Naturale Dello zio Mavio Ecco Gli insegnamenti Dello zio Mavio Magari quando Inizierò a capire Come funzionano I programmini Per mettere a posto I video Potrei fare Niconcina E' il momento Degli insegnamenti Dello zio Mavio E succede qualcosa Sarebbe molto carino Ma non so capace Quindi Comunque Come avete visto Col tasto Testo sul coltello Posso tagliare Il L'anguria Che è una cosa Molto interessante Intanto Vediamo un po' Crafting Che cosa si può fare La sheet rope Che serve per Per arrampicarsi Giù Dalle finestre La molotov Cocktail No vabbè Non è ora Di farla E poi Le Le Bande Normali Diciamo Gli stracci Ma guarda Quante cose Hanno aggiunto Che si possono Fare Guarda C'è sto menu Di crafting Rivoluziona Il gioco Rivoluziona Guarda Intanto Dice già da qua Così non devi Sta cercando L'inventario Non devi Sta cercando Nell'inventario Quello che devi Fa Perché Se no Tu dovresti Fa Qua Dovresti Tutto qua Tasto Testo Clean Per esempio Tasto Testo Open Magari Ci metti Tempo a Cercarle Intanto Dietro Dietro Zitto Zitto Ti arriva Un simpaticone Inizia a Grida A sverata Inizia a Mangiare Piano piano Le carni Tu manco Te ne accorgi E poi Te c'è scritto Game over Sei morto Perché sei un Fessacchiotto Chi di noi Vuole Sto Chi di noi Vuole Che succeda Infatti Trapping for beginners Questo è buono Perché così Quando si fanno Le trappole Questo ci dà Più esperienza Se lo leggiamo E qua ci sta Una signorina Ah no Era una coppia Silenzioso Silenzioso Ma io volevo Fa' silenzioso Però Il coltello Da cucina È fortissimo Uh Questo Sembra buono Quindi lo prendo E Subito Subito Gustoso Gustoso Molto gustoso Ma non fa niente Non cura nulla Quindi La prossima volta Che ne trovo uno Lo lascio Alla dosta E Tanti saluti I piselli Ma Uh le carote Le carote fanno Molto bene Le carote fanno Molto bene Mi raccomando Mangiate le carote Ecco Qua ce ne stava un altro Perché qua La gente lascia La luce Spenta no Dico io no Se Se sai che Che stai per diventare zombie Perché spegnerà E la luce Perché Metti che qualcuno Sopravvive no Mi raccomando Questo tenetevelo Per il futuro Nel caso Stiatevi diventare zombie E state in casa Ancora Lasciate La luce Accesa Perché mettiamo Che uno Sopravvive no Entra dentro Casa vostra Magari Per salvarsi Voi ci avete lasciato La luce spenta E magari State ancora Voi là dentro No Com'è successo adesso Questo qua Si spame Potreste far venire L'infarto A una persona Potreste causare Veramente Dei problemi Ad una persona Comunque a me Sta casetta Mi piace No Bella Carina Carina Non ho aperto La portata dentro Perché sono furbone Direi di Entra E di mettere Tutte le cose Nostre Oddio Lo sparo Lo sparo Hanno sparato Voi direte Hanno sparato Ci sta qualcuno No Perché per ora Gli NPC Non ci stanno In gioco Però Siccome Gli sviluppatori Sono dei simpaticoni Burloni Birbanti Che cosa hanno scelto Di far Intanto Chiudo le tende Così Non ci vedono Hanno deciso Di Fare in modo Che Quando Gli va Al gioco Gio dice Ok Adesso Cosa succede Un evento Casuale Tipo uno sparo Un cane Gabbaia Un qualcosa Avviene E Questo non è Nient'altro che O uno spawn Di zombie Quindi magari La Do si è sentito Lo sparo Ma è pieno Di zombie Oppure Attira Gli zombie Che stanno Da Da una zona Tipo gli zombie Che stanno Qua a destra Della mia casa Ma magari Si stanno a muovere Tutti verso di là Verso lo sparo E questo è un Problemone assurdo Perché mettiamo caso Noi stiamo qua dentro E ho sbagliato di nuovo Noi stiamo qua dentro Belli sicuri No magari abbiamo appena trovato Sentiamo lo sparo Ci affacciamo un attimo fuori E vediamo solo zombie Che passano Magari ti vedono E la casa tua Rimane Cioè Sta casa che hai appena trovato Rimane inutile Perché tutti quanti Ci si lanciano addosso E tu non puoi Non devi fare nient'altro Che scappare Infatti vedi qua Già sono arrivati Questi prima non ci stavano Ci sono passato prima Dietro la casa E non ci stavano E ci stanno diversi Di questi eventi Lo sparo Il cane E certe volte Può passare pure un aereo Io la prima volta Che l'ho sentito Ho detto Minchia un aereo Come lo faccio a prendere Do sta Come lo faccio a trovare Posso volare dall'altra parte Tutto quanto Poi ovviamente Ho saputo che Non Non era possibile Perché Era solo un evento casuale Ci sono rimasto un po' male Però è Come dì Da movimento al gioco Perché Se tu ti metti qua E resti sempre fermo Dentro Oddio ce ne sta un altro Questi da dove sono entrati Non ci stavano Raga non ci stavano Sti cosi Eh Signorini Per favore Io già sono uno che Che è molto Felicitazione Quando Già Uh Piede di porco Ok Tutto Tutto passato Già sono uno che Quando si mette a giocare Sti giochi di zombie No Do magari Ecco Ti puoi trovare cose all'improvviso Tipo sta signorina E quell'altro simpaticone Che mi sta prendendo A capocciare la finestra Già sono uno che Se la Tiene un po' No Si spaventa Tu mi fai vedere sti due Che mi appaiono dietro E inizia a pensare subito ai fantasmi I fantasmi sono micidiali Pure se non ci stanno Ma sono micidiali Chi vorrebbe i fantasmi a casa eh Chi vorrebbe Intanto bevo e riempio L'acqua dal bagno Perché l'acqua del bagno è buona Come quella normale Mettiamo un po' di Faccio un po' di Di pulizia dell'inventario E poi ci andiamo a fare un altro giretto Ma Ovviamente Tutto questo Nel prossimo Delizioso Episodio E poi ci andiamo a fare un altro giretto